Pari e patta tra Sporting e Tower Minage e Virtus che al Bacigalupo chiudono sul punteggio di 1-1 un derby ricco di emozioni. I giallorossi di Raffaele con grande carattere conquistano in rimonta un punto preziosissimo che permette ai barcellonesi di rimanere al primo posto in classifica, adesso in compagnia del Rocca di Caprileone e mantenere inoltre l'imbattibilità esterna in campionato. Un match che si accende subito e dopo dieci minuti Ligia potrebbe già passare in vantaggio, quando sulla perfetta pennellata di Cardia Isgro si presenta solo davanti a Gulisano, ma anziché servire lo smarcato cannavò calcio a rete non centrando clamorosamente lo specchio della porta. Scampato il pericolo, il Taormina prova a rispondere due minuti dopo un tiro da fuori aria di Puglia e si perde di poco alla destra di Inferera. I padroni di casa prendono coraggio e per altre due volte tornano a farsi sotto con Nicolosi. L'attaccante locale prima manda di testa a fil di palo un cross dalla sinistra di Urso e poi con il mancino impegna la respinta di Pugni il portiere. Lige Virtus non sta a guardare, al 38esimo i giallorossi si riportano in aria taorminese andando alla conclusione con Mazzu, che di sinistro non inquadra di poco il bersaglio. Cinque minuti dopo però l'occasionissima per passare in vantaggio capi dai locali, quando Urso vince una serie di rimpalli in aria barcellonese e col destro calcio a colpo sicuro trovando l'ottima risposta di Inferera. Il primo tempo si chiude con Ligea che prova a sbloccare il derby ma anche la botta da fuori aria di Cardaci viene prontamente respinta da Gulisano. Nella ripresa lo Sporting Taormina entra in campo deciso a mettere a segno la rete del vantaggio e dopo sei minuti l'undici di Coppa si rende pericoloso, prima con un grandestro dai 30 metri di Abater, respinto da Inferera, e poi con Trovato che sulla ribattuta calcio a rete in acrobazia non creando problemi al portiere. Vantaggio che i padroni di casa trovano però al minuto 63, quando Emanuele con una perfetta conclusione dal limite dell'aria mette il pallone all'incrocio dei pali, facendo così Sporting e Taormina 1, IG Virtus 0. Premiati dunque gli sforzi dei locali che al secondo vero tentativo operato nella ripresa sbloccano la partita grazie ad un super gol di Emanuele che firma così l'1-0 per i suoi e il suo quarto centro in campionato. Il gol incassato non demoralizza Ligea che prova subito a riacciuffare il pareggio e dieci minuti dopo, prima cardia di testa, trova un super gulisano a dirgli di no e poi sgrò sulla ribattuta a calcio incredibilmente a fil di palo. Con i barcellonesi protesi in avanti alla disperata ricerca dell'1-1 e la Taormina prova in contropiede a chiudere il match e all'ottantottesimo Urso solo davanti a Inferera a calcio acclamorosamente sul fondo il pallone del raddoppio. Così per una legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito a segnare Lige Virtus che 30 secondi dopo mette a segno la rete del pareggio con il neo entrato Pino le sto a riprendere un servizio di sgrò e col destro battere gulisano facendo esplodere di gioia i tifosi giallorossi. Gioia incontenibile per l'attaccante barcellonese che poi va a prendersi il meritato abbraccio di tutti i compagni. Col pesantissimo dunque quello messo a segno dal numero 18 Igeano, bravo a firmare così l'1-1 e il suo secondo sigillo in campionato. La rete del pari galvanizza Lige Virtus che nel finale di partita prova a fare i suoi tre punti. In pieno recupero ci prova ancora Pino ma il suo colpo di testa si perde di poco alto sulla traversa. Finisce così con Lige Virtus che conquista il quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato e il trentasesimo punto in classifica che consente ai giallorossi di mantenere il primo posto in compagnia del Rocca e preparare nel migliore dei modi il big match di domenica prossima dal Contres contro la Cireale.